Mister Parro, possiamo dire che è stata una sconfitta figlia di due episodi abbastanza strani nel primo tempo che hanno un po' indirizzato la partita, fermi restando i meriti dell'Atalanta ovviamente? Sì, sicuramente i due episodi sono così, due episodi particolari in cui ci è mancata un po' di cattiveria, un po' di concentrazione l'Atalanta ha fatto credo meglio di noi nel primo tempo dal punto di vista della cattiveria, come si vuole chiamare, su seconde palle, contrasti per cui ha preso un po' di inerzia, quello c'è un po' mancato, poi due episodi, poi secondo tempo penso che la squadra si sia presentata di più in campo e si è giocata alla pari della partita Vi ha penalizzato anche il fatto di non avere a disposizione contemporaneamente due centrali difensivi come Guintero e Magnani che sono forse più indicati a fare il perno centrale dei tre dietro? Ma no, penso che Lovato comunque abbia fatto una bella partita, giocare contro Zappata non è mai facile e credo sia stato più un problema generale di squadra di affrontare la partita in un determinato modo per cui l'assenza non è quello, non è che ci hanno condizionato Da dove ripartire adesso? Dal secondo tempo dove certamente si è visto anche uno spirito migliore Oltre che un gioco migliore Sì, no, sicuramente la squadra adesso avremo tempo con la sosta di lavorare di migliorare per il finale di stagione di affrontare comunque i temi di questa partita